...tutta nuova che ti racconta quello che nessun altro riesce a raccontarti. C'è una tv tutta nuova che in tempo reale ti dice com'è il traffico, che tempo farà domani, cosa fa il sindaco, chi ha arrestato la polizia e come puoi divertirti stasera. C'è una tv tutta nuova che si chiama Torinao. Cronaca, sport, meteo, politica, spettacolo. Torinao, sul tasto 199. C'è una tv tutta nuova, la tua nuova tv.